Maria Lucia Lorefice della dodicesima commissione affari sociali ieri in una nota stampa ha fatto sapere di aver sottoposto un'interrogazione al ministro della salute Beatrice Lorenzin. L'interrogazione in oggetto, firmata dalla deputata Eblea e presentata dal Movimento 5 Stelle, riguarda le differenze degli indennizi agli emo danneggiati, nonché soggetti affetti da sangue infetto in seguito a procedimenti trasfusionali. Il Movimento politico vuole con questo sottolineare e risolvere, come dalla Lorefice asserito, il nodo della disparità nell'erogazione degli esercimenti a questi soggetti, che li percepiscono ex legge, ovvero per legge numero 210 del 1992. Questa parcellizzazione creerebbe, come da loro dichiarato, delle disparità anche dove non ci sarebbero motivo d'essere. Come si legge nella nota, di fatti, nei fatti tali indennizi vengono erogati da più enti pubblici, quali il Ministro della Salute, la Regione e le ASL. Questa frammentazione ha però dei risvolti negativi in termini di puntualità e continuità nei pagamenti e crea importanti disagi agli ammalati. Hanno preso parte, per risolvere la vicenda, anche le associazioni di categoria, che hanno chiesto che fosse di competenza esclusiva del Ministero erogare le spettanze agli emo danneggiati, in quanto questa parcellizzazione e passaggio di mano non ha nessuna spiegazione e crea soltanto disparità di trattamento. I pentastellati hanno concluso richiedendo che l'assegnazione dei fondi a chi deve riceverli avvenga in maniera uguale e attraverso un unico ente, quale lo Stato, evitando così dispersione di tempo e denaro utile.